Si continua a scavare, purtroppo dolorosamente si continua a trovare nuove vittime del sisma sotto le macerie? Sì, purtroppo sì, oggi per la verità è stata una giornata, un attimo di decisioni, perché da squadra del Tronto siamo stati trasferiti ad Amatrice, perché pare che lì ci siano ancora delle persone discesse da dover tirare fuori. Qualche ora fa mi risultavano essere oltre le 260, per cui il dato vedo che aumenta, cresce di giorno in giorno. Toccante l'SMS ricevuto dai nostri soccorritori nonostante la drammaticità dell'accaduto. Avete trovato qualcuno ancora vivo sotto le macerie? In questi giorni no, in questi giorni no. Purtroppo il messaggio era per un ritrovamento di una persona deceduta, cioè nonostante il ringraziamento era stato fatto anche se il ritrovamento aveva dato un etnico purtroppo negativo perché la persona era deceduta. Perché almeno si può piangere sul suo sepolcro. Infatti, lui diceva proprio questo.